Il termine inglese è di epoca vittoriana ed è traducibile in italiano tazza coi baffi. Durante quest'epoca i baffi erano una moda irrinunciabile. I gentili uomini dell'epoca applicavano addirittura della cera per tenerli in ordine e il sacro rito del tè del pomeriggio alle ore 5 rischiava di scompigliare l'attenta composizione. Andava ricercata una soluzione così nel 1860 Harvey Adams mise a punto un'invenzione che avrebbe permesso ai signori con i baffi di godersi un ottimo tè senza problemi. La tazza aveva una fascia a mezzaluna di protezione in corrispondenza della parte superiore della bocca. In questo modo non si sarebbe corso il rischio di rovinare l'attenta composizione del barbiere.